ciao a tutti oggi prepareremo la crema fredda al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più un'ora di raffreddamento in frigo gli ingredienti sono panna vegetale zuccherata mascarpone succo di limone e limoncello andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla versiamo la panna chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 3 e mezzo fermiamo il bimbi trascorso circa un minuto e mezzo la vanna è ben montata trasferiamola in una ciotola e posizioniamola in frigorifero senza lavare il boccale aggiungiamo il mascarpone il succo di limone e limoncello chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5 trasferiamolo in una ciotola capiente abbiamo ripreso la panna dal frigo adesso la aggiungeremo poco per volta e l'andremo a incorporare dopo aver incorporato la panna posizioniamo la crema in frigo per almeno un'ora la crema fredda al limone è pronta andiamola a servire in delle coppette crema fredda al limone ideale anche per farcire torte grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti